Domani, quando celebrerete il rito, non mancate di esternare la nostra gratitudine a Mr. Brandon. Avete deciso di allungargli il collo o tagliarglielo? Un prigioniero come Carlo Brandon ha diritto all'onore della mannaia. Eh, sì, giusto. Vuoi dire che deve morire? Di solito si muore quando la testa viene separata dal corpo. L'unica colpevole sono io.